Continua ragazzi l'appuntamento con le migliori offerte di questo Prime Day del 2024 di Amazon Offerte molto succulente da parte di tanti brand e come al solito ci siamo trovati a selezionare le migliori 5 proposte di Mobvoi Mobvoi che è un brand che forse molti conosceranno più come TicWatch per i famosi smartwatch che abbiamo provato tante volte e che si sono sempre contraddistinti per un grandissimo rapporto qualità-prezzo ma con questo Prime Day vi stupirò perché ci sono delle offerte ancora più interessanti e che di fatto rendono due dei loro smartwatch e non solo dei best buy in assoluto ve li faccio vedere Il primo selezionato è il TicWatch E3 perché rientra nella categoria degli smartwatch più economici del mercato il migliore in assoluto sotto gli 80€ con a bordo Wear OS questo dispositivo si contraddistingue per offrire prestazioni elevate a un prezzo contenuto grazie al processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oltre che una vasta gamma di sensori un aspetto positivo è sicuramente il prezzo solo i 79€ contro i 199€ previsti al lancio il TicWatch E3 è comunque ben equipaggiato in termini di sensori include il GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi oltre che vari sensori per il monitoraggio della salute come quelli per il battito cardiaco oltre che l'ossigenazione del sangue il vero artefice del suo successo però è senz'altro il software di cui è dotato Wear OS 3 offre una vasta gamma di funzionalità con il Google Play Store Google Assistant e Google Pay perfettamente integrate all'interno del dispositivo per chi è attento alla propria forma fisica inoltre lo smartwatch dispone di app dedicate per il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dell'ossigenazione del sangue e di altre attività fitness dal punto di vista del design il TicWatch E3 è leggero pesa infatti soltanto 32 grammi il che lo rende comodo da indossare adatto anche a polsi di ogni dimensione in compenso però il suo display è soltanto LCD non offre colori super brillanti come altri competitor sul mercato o proprio alcuni altri dispositivi di stessa TicWatch ma con l'offerta di questi giorni è comunque un dettaglio che può tranquillamente passare inosservato l'autonomia della batteria invece è pari a poco più di 24 ore è sufficiente per un utilizzo anche intensivo dello smartwatch ma non adatto se intendete monitorare il sonno durante la notte il mio consiglio comunque è vista la velocità di ricarica piuttosto interessante di ricaricarlo durante il giorno e poi di utilizzarlo per monitorare il sonno durante la notte come vi dicevo offerta bomba a 79 euro anziché 199 euro previsti al lancio ed è di fatto uno dei migliori smartwatch con Wear OS a bordo più interessanti per via soprattutto del suo prezzo inferiore ai 100 euro il TicWatch Pro 3 Ultra invece rappresenta un segmento più avanzato per Mobvoi nel settore degli smartwatch il design di questo smartwatch è robusto con una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in gomma che sebbene meno pregiato rispetto ad altri modelli della stessa azienda con cinturini in pelle risulta comunque essere di alta qualità e confortevole da indossare lo smartwatch è dotato di un doppio display da 1,4 pollici con un pannello FSTN monocromatico che si attiva quando la batteria è bassa oppure di notte risultando particolarmente utile all'aperto sotto la luce del sole oltre che un classico ovviamente display AMOLED come strato superficiale con dei colori pazzeschi rispetto alle soluzioni LCD come quello visto prima a livello hardware il TicWatch Pro 3 Ultra include uno Snapdragon Wear 4100, 1GB di RAM e 8GB di memoria interna utili per l'installazione di numerose applicazioni tra quelle disponibili oltre che per il trasferimento dei brani musicali qui ciò che fa la vera differenza sono le app integrate di Mobvoi come TicSleep, TicPulse e TicOxygen le quali offrono un monitoraggio preciso delle attività e soprattutto assicurano un monitoraggio del battito cardiaco H24 per di più ragazzi è presente anche l'NFC per i pagamenti tramite Google Pay e la batteria presente riesce ad offrire fino a tre giorni di autonomia se utilizzato con display AMOLED oppure fino a cinque giorni interi se utilizzato con il display monocromatico rispetto al prezzo iniziale di 299€ durante i Prime Day di Amazon è possibile portarselo a casa ragazzi pensate un po' a 119€ anche qui un'offerta molto interessante che nel caso aveste un budget superiore o comunque foste disposti a spendere qualcosina in più per avere apposso un dispositivo più completo sotto tutti i punti di vista beh allora lui sicuramente può fare la differenza sempre per restare in ambito smartwatch il TicWatch Pro 5 alza ulteriormente l'asticella ed è stato uno dei dispositivi più discussi del 2023 questo dispositivo ha introdotto sul mercato la nuova piattaforma di Qualcomm per gli indossabili ed è il primo watch ad essere stato consegnato con Wear OS 3.5 così come la versione 3 di cui vi ho parlato poco anzi anche lui mantiene la caratteristica distintiva dei due display per risparmiare all'occorrenza batteria tuttavia le dimensioni generose e il design robusto lo rendono poco adatto a chi ha dei polsi più piccoli il TicWatch Pro 5 ad ogni modo è ben costruito e con materiali di qualità come l'alluminio 7000 e il nylon rinforzato con vetro il che garantisce la massima resistenza a polvere acqua con certificazioni P68 e militare e militari standard 810G a livello hardware lui è equipaggiato con il nuovo Snapdragon V5 Plus di generazione 1 2 GB di RAM e ben 32 GB di memoria interna 4 volte in più rispetto al modello precedente questo è un dispositivo che garantisce prestazioni eccellenti e un consumo energetico molto ridotto e ancora una volta grazie alle applicazioni di Mobvo integrate per il monitoraggio della salute tutte si ottengono naturalmente misurazioni precise e affidabili a partire da quelle cardiache fino a quelle come il sonno l'autonomia invece della batteria è fino a 4 giorni di utilizzo completi con tutti quanti i sensori attivi mentre per quanto riguarda il prezzo ragazzi 359€ era il prezzo di listino 238,49€ per l'offerta prevista per il Prime Day che cosa vuol dire? Un dispositivo completo da indossare al polso per monitorare l'allenamento ascoltare la musica senza portare lo smartphone dietro quindi un dispositivo completo a 360 gradi Mobvoi però non è nota solo per i suoi TicWatch perché negli anni scorsi sorprendentemente si è lanciata anche nel mercato dei tapirulan con un modello pieghevole ma dalle caratteristiche vicine a quelle dei modelli tradizionali questo prodotto solido e stabile con dimensioni di 123x68x106.5 e un peso di 38 kg risulta essere una soluzione molto pratica per chi non ha molto spazio in casa per tenerlo sempre aperto mi riferisco al modello Mobvoi Home Treadmill Pro un tapirulan dotato di una chiave magnetica di sicurezza oltre che di uno speaker bluetooth per ascoltare musica durante l'allenamento ma non manca anche un display LCD che mostra ciclicamente le informazioni sull'allenamento la pedana allarga 100x40 cm con 5 strade di assorbimento è silenziosa e può supportare fino a 120 kg di peso anche se non offre la possibilità di variare l'inclinazione rendendolo di fatto inadatto per chi vuole correre o camminare in pendenza il motore del tapirulan è da 2,5 CV, è silenzioso, è potente e permette due modalità di utilizzo la prima è la modalità camminata fino a 4 km orari e la seconda la modalità corsa fino a 12 km orari senza però il supporto da applicazioni su smartphone per la gestione dell'allenamento il prezzo di destino di questo dispositivo ragazzi è di 449,99€ previsto al lancio ma abbiamo la possibilità di portarcela a casa in questi giorni a soli 287,99€ uno sconto consistente per un dispositivo che permette di entrare nel mondo del fitness con una spesa grossomodo contenuta Mobvoi Inclean, l'altro protagonista delle offerte del Prime Day di Mobvoi rappresenta la vera rivoluzione del mercato del tapirulan smart domestici grazie alla sua inclinazione variabile al grande display e alla connettività bluetooth che permette un dialogo preciso con gli smartwatch UROS per monitorare tutti gli allenamenti questo modello però non è indicabile a chi ha problemi di spazio dal momento che le sue dimensioni possono risultare più ingombranti rispetto al modello precedente la struttura tuttavia è rigida e robusta ed in più il motore potente da 2,25 CV che raggiunge fino ai 14 km orari assicura delle prestazioni solide e affidabili nel tempo senza faticamenti o surriscaldamenti soprattutto se utilizzato da persone leggermente più pesanti come il mio caso la pedale è piuttosto larga rispetto alla media e ciò ne consente un utilizzo facilitato anche a chi non ha mai avuto esperienze con dispositivi di questo tipo che alle prime armi potrebbero sentirsi spesati in più il Mobvoi Inclean è dotato di ruote sulla parte inferiore il che ci consente di spostarlo ovunque in casa senza il minimo sforzo ancora una volta però la vera differenza la segna il software la sincronizzazione con smartwatch Wear OS consente un tracciamento preciso e completo degli allenamenti evitando troppi passaggi o app di terze parti per una sincronizzazione completa di tutti i valori il prezzo scontato netto di questo dispositivo è di 401,99€ rispetto ai 599€ previsti dal listino di Mobvoi che vi permetteranno appunto di avere fra le mani a casa o meglio fra le gambe a casa è un dispositivo completo per i vostri allenamenti e soprattutto che vi consentirà di aumentare o diminuire la pendenza e quindi di fare degli allenamenti un po' più complessi per utenti già un po' più allenati rispetto a chi invece acquista il modello base che sta entrando e si sta addentrando in questo settore ebbene ragazzi queste erano le 5 offerte che avevamo selezionato per voi di Mobvoi continuate a seguirci perché ne sono presenti davvero tantissime tantissime centinaia di offerte le trovate sui nostri canali di Telegram GizDeals che naturalmente trovate tutti qui in basso in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Giz Grazie a tutti